Presidente, un attimo di calma, è fatta, il Livorno in Serie A l'avevo commosso. Guardi, io credo che questo pubblico meriti la Serie A, ma quello che ci ha fatto è veramente importante, che ci dà una carica che è incredibile, io credo che la Serie A è una cosa che se la meritano, guardi che pubblico, ai giocatori, tutti, guardi, la città, tutti, guardi. Una gioia che ripaga anche di tante sofferenze. Eh beh, ma guardi, io sono arrivato a questo punto stremato, mi creda, perché io so cosa vuol dire, credo che questa sia stata veramente un'impresa incredibile per il Livorno al primo anno, capisci, al secondo anno di Serie B, e io credo che, guardi, guardi che, guardi che... Quando ha capito che Livorno sarebbe arrivato in A? Eh, guardi, noi è tutto l'anno che siamo a queste condizioni, quindi io credo che ce la siamo meritata ampiamente.